Passiamo alla pallavolo Supercoppa, una Bartoccini-Fortinfissi-Perugia che gioca a un buon livello ma che non riesce a imporsi sulla quotatissima Novara e così finisce 3-1 per le padrone di casa nonostante il secondo set vinto ai vantaggi 27-29 dalle ragazze di coach Bovari. Ai quarti vanno dunque le piemontesi, i parziali 25-19, 27-29, 25-16 e 25-12.